Buongiorno a Malsagnor Pino Tilocca, Presidente dell'Opera Culturale della Ghe. A proposito dell'anniversario del 35 ansio della scuola Pasquale Ascano alla Ghe. Pino, diciamo, ma oggi è diventata una grande cosa che ti ha fatto? Sì, diciamo che diventata, ma noi abbiamo fatto la cerimonia di inaugurazione del 35 anno accademico della scuola di Algaris Pasquale Ascano. Infatti la scuola è stata fondata il 28 d'ottobre del 1982. E dunque Anguano raccora i 35 anni di insegnamento di questa iniziativa culturale che tanto ha fatto all'Algaris e all'Algaris. Praticamente si farà diventata, ma pari, no? Diventata che vi, ora cinque di retalda alla sala di conferenza di San Francesco. Sì, diventata la sinca, la sala di conferenza di San Francesco, il presidente della scuola del Garis, Nicolino Spiritico, farà una partita a relazione. E poi ci saranno ospiti anche a quelle persone che nel 1982 hanno contribuito alla fondazione della scuola e che ancora si trovano, perché tanti sono anche molti, ma si era presente Nicolino Spirito, appunto, che è il presidente, Iudes Fundarolz, il leggo Pasqualino Melai e Fidel Carboni, mentre Don Inonugas purtroppo per la sua malattia non può essere presente. Però c'è anche altre persone che stanno molto avanti, hanno il stesso entusiasmo e le stesse motivazioni che hanno tenguto i Fundarolz e anche queste usanze stanno sempre portando avanti le stesse iniziative. È un'obra buona. Io seguirei presente e convito a tutti i ragazzi che potete venire, non mancare anche queste cose. E tutti per i nostri, per la valorizzazione della nostra lingua. Grazie. Pino, hai qualche altra cosa da dire? No, vuol dire che i corsi sono completamente gratuiti. Chi vuole si può scrivere a venire di vendere a San Francesco oppure, c'è una locandina che sta girando, sono i numeri del telefono, o vengono al carriè di Mallorca a scrivere della 6 alla 7 del di lunedì al di vendere, oppure, come stavano dentro a San Francesco. E poi, i corsi, i corsi, i corsi, i corsi, i corsi, i corsi di novembre. Beh, vabbè, è sì. Però, se Pino vuole dire qualcosa che è assai importante per chi mi svega o per chi mi ascolta, come funziona proprio la scuola di Algarese Pasquale Ascano sulla funzionalità? Ma la scuola funziona, ma ha una cadenza settimanale, nel senso che si fa un'ora alla settimana, diventate naturalmente per le classi, del di lunedì al di giù. Ha un orario che permette anche a chi sta lavorando, da pure a frequentare, infatti, la prima giornata si comincia alle 5 e miglia o alle 6, dipende anche delle persone che si scrivono, perché normalmente si sta scrivendo gente adulta che prima va a lavorare, e l'ego va a frequentare la scuola. Comunque, la frequenza si farà gratuita e i professori, che vogliono raccontare, si faranno Giuliana Portas, Maria Antonietta Salaris, Giussi Pascalis, Francesco Balloni e Alessandra Di Riu. Si faranno i aspetti grammaticali, fonetici, di lettura, di conversazione, ma anche i aspetti storici della città e della tradizione, perché una identità non si può basare solamente a monti della lingua, temanamente di prendere un approfondimento ben preciso sopra gli aspetti più culturali e identitari che la scuola riesce a garantire, anche le difficoltà che potrebbero anche trovare, perché è normale, un'ora alla settimana non è che sia una frequenza assai proficua, però hanno anche ciò che non sono poze, tanti algerici hanno imparato a leggere e a scrivere la lingua nostra, frequentando la scuola. E' una cosa buona, una cosa essenziale, una cosa primaria per tutti i musalti algerici, per chi ti ha il chagrante, pur di dire passiù, ma è la lingua che non è niente di volerla, la lingua è la nostra identità, è niente di avanti, è di valorizzare la lingua. Io ho sempre le dite, quando arriviamo a un palco a cantare, ma il gruppo, la gruppa, ho sempre la voglia di parlare algerici, ma non stiamo parlando, è sbagliato, non fa rischio, anche a scrivere, a poco a poco, soltanto i suoi menti, anche a scrivere sbagliati, si può imparare, però c'è una grande occasione, con l'opera culturale delle ghe, il comandante Pino, il presidente dell'opera culturale, vanno io, che a sci, si può scomparare, già a scrivere, e ripeto ancora un'altra volta, perché con la nostra lingua, la nostra lingua è necessaria tramandare oralmente, e oggi vendere a Spino i sigari, la sigari è una cosa che manterebbe a sé, sai sai, io convito a tutti voi algerici, dei vani, che i poti vani, patizi, grazie, famiglia, lo grande, i genitori, voi altersi, mara, spara, spolta, i vostri figli patizi, vorrei che si garantiscono la santa, e le comandate, e cosa puoi dire? Tanti auguri, tantissime buone cose, Spino, vuoi dire qualche altra cosa? No, io puoi approfittare di questa occasione, per lanciare un appello, nel senso che l'Algarese sta lentamente, ma inesorabilmente morendo, allora, se gli Algarese prendono coscienza di questa situazione, probabilmente, molti altri, questa caratterizzazione, che abbiamo, la potremo salvare, perché è un patrimonio, immateriale, sicuramente, che non c'è nessun altro, in Sardegna, in Italia, e allora, a questa scuola, donna l'opportunità, a Salgarese, che vogliono fare, di poter imparare, a leggere, a scrivere, e ciò, è una cosa, veramente importante, per ciò, quando io, a voi scrivere, a questa scuola, tra l'altro, la frequenza, è completamente gratuita. Grazie, Pino, abbiamo una frase, bella, o bello, ecco, e come venire, a dire, parliamo, leggiamo, scriviamo nel garis, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.